Ciao, sono Elena Righi di Gateway.com. La scelta dei canali da utilizzare per creare un'efficace strategia di content marketing immobiliare è di vitale importanza per dare alla tua agenzia quello slancio internazionale che ti permetta di distinguerti dalla concorrenza e conquistare l'interesse di potenziare attivanti da tutto il mondo. Vediamo insieme alcuni di quelli più efficaci da inserire nella tua strategia. Gateway.com, l'essere per tutti. Crea un sito web. Il tuo sito web dovrebbe essere la fonte centrale di tutti i tuoi contenuti immobiliari. Assicurati che sia ben strutturato e facile da navigare con sezioni dedicate a diverse tipologie di proprietà. Guide per gli acquirenti e venditori e una sezione blog. Pubblica regolarmente nuovi contenuti informativi e utili. Dimostrerai la tua competenza e costruirai una relazione di fiducia con il pubblico. Usa un portale immobiliare internazionale. Pubblicare i tuoi annunci in un portale immobiliare internazionale come gateway.com ti permetterà di ottenere una maggiore visibilità e ricevere richieste da oltre 160 paesi nel mondo. Inoltre potrai beneficiare di una serie di servizi che ti permetteranno di distinguerti dalla concorrenza. E-mail marketing. L'e-mail marketing è uno strumento potente per mantenere il contatto con i clienti. Personalizza le tue e-mail in base agli interessi specifici dei destinatari e invia newsletter periodiche contenenti gli ultimi annunci, articoli del blog e informazioni sul mercato immobiliare locale. Ricorda che questo tipo di attività è integrata nei servizi disponibili su gateway.com. Video marketing. I video sono estremamente efficaci nel settore immobiliare. Crea video di tour virtuali delle tue proprietà, interviste con venditori o acquerenti soddisfatti e altro ancora. Carica i video su piattaforme come YouTube e condividili sui tuoi canali social e sul sito web. Social media. Le piattaforme di social media sono un canale ideale per condividere immagini e video delle tue proprietà in vendita. Utilizza Instagram, Facebook e altre piattaforme per promuovere i tuoi annunci immobiliari e condividere i tuoi contenuti. Puoi anche coinvolgere il pubblico con sondaggi, domande e interazioni dirette. Non perdere il prossimo video. Andremo a vedere come integrare i social media nella tua strategia immobiliare per l'estero. Spero che questo video possa esserti utile. Se ti è piaciuto, lasciaci un like e per qualsiasi domanda scrivici nei commenti. Qui ti lascio altri video che potrebbero interessarti. E per non perdere i nostri prossimi consigli, iscriviti al canale. Gateway.com, l'estero è per tutti.